In questa seconda parte di trasmissione ci facciamo la bocca e le orecchie buone, perché sono in studio con Salvatore Cravanzano, poeta, saggista anche, mi sento di dire, insomma, no, e con Alberto Noto, appassionato dell'arte, appunto, della poesia, di teatro, curatore, insomma, di diverse rassegne e lui stesso, insomma, assieme appunto a Salvatore Cravanzano sta curando questa bellissima iniziativa, questo spettacolo che si darà il 17 di marzo al Teatro Arison a Trapani, uno spettacolo che ha un titolo in siciliano, si intitola Mischighi ed è tratto da questo, ecco, questa è la Locandina, appunto, lo spettacolo Mischighi con Alberto Noto che presenta, si tratta di recitazione, di musica, di canto, adesso lo spieghiamo bene, in realtà tutto è basato sulla silloge poetica, appunto, di Salvatore Cravanzano, c'è la partecipazione straordinaria di Totò Cascio, che voi dovreste sapere chi è, ma adesso entriamo nel meno della questione, dicevo, questo spettacolo nasce, fino a poi ritornare qua, facciamolo vedere il libro da questo libro che si intitola Mischighi, eh già, è che su non si mischighi? Salvatore Cravanzano, grazie intanto per essere qua, che cosa sono i mischighi? E allora, mischighi è una parola siciliana, siciliana che veniva adottata molto facilmente nei tempi passati in drogheria, perché, perché mischighi significa in italiano mescuglie, l'insieme di tanti pezzi che in salumeria diventavano scarto, cioè, in parole povere, quando il salumiere tagliava una forma di parmigiano, venivano fatte delle scaglie, scaglie che era il cuore del parmigiano, quelle erano considerate meschiglie, perché ritenute non vendibile, però l'abile salumiere, attendo, ha creato delle confezioni tale da inserire tutti questi scarti e ne ha fatto una preziosità, meschiglie da scarti sono divenuti parte essenziale Cioè, un po' come la pietra di scarto che diventa la pietra fondante, insomma Cioè, mentre quelli erano scarti, poi sono diventati E' una parola parte migliore, tra l'altro, altro che scarti E quindi ho voluto, siccome io nel presentare questa nuova sillage, ho raccolto tutte quelle poesie che erano state scattate, quando ho fatto la prima mia pubblicazione sillage sulle fire Le ho raggruppate e ho dato il nome, meschiglie, l'insieme di tutta la raccolta poetica che era stata messa E in questo caso vale come per i meschigli da mangiare, cioè, questi che lei ha ritenuto scarti in realtà sono diventati dei prezzi pregiati? Sì, sono diventati prezzi pregiati, certo, perché mentre prima non venivano venduti come... No, no, io parlo delle sue, dei suoi scarti, in questo caso le poesie che aveva scartato sono diventate pezzi pregiati come i meschigli quelli da mangiare? Sì, io mi auguro che abbiano questo effetto, cioè, perché anche se sono stati messi da parte che non sono stati toccati nella loro forma come sono nati perché molto spesso il poeta nel tempo fa delle rivisitazioni e utilizza anche l'ingegneria poetica perché dopo la maturazione giustamente si accorge che ci sono dei versi che non rimano bene io li ho lasciati così, tali e quali come sono nate mi auguro che possano essere dei buoni meschigli come il salumiere li ha fatti diventare preziosità, preziosità della... Sono succulenti, rimanendo sempre nell'ambito dei meschigli Alberto Noto, come diventa un libro di poesie in dialetto e in lingua poi una rappresentazione teatrale? Beh, naturalmente lì ci vuole tanta buona dose di passione naturalmente si cercano dei modi per poter trovare quel quid interessante da poter trasmettere agli altri queste sensazioni poetiche e qui nasce il pensiero, il sogno, così detto di trasmettere queste poesie alla società ma non solo ma a quella parte di società meno fortunata che diciamo viene un po' dimenticata quindi entrano in gioco i ragazzi diversabili perché, mi chiedo scusa se interrompo, una parte fondamentale assolutamente bella appunto di ciò che stiamo per raccontare di questa rappresentazione teatrale all'Arison è proprio il fatto che ci siano protagonisti ragazzi diversamente abili e di questo insomma un grande complimento davvero Alberto Noto che da tempo insomma si occupa di fare anche queste cose assieme all'associazione cooperativa Allora, la cooperativa Voglia di Vivere da noi contattata i quali ha accolto ben volentieri questa nostra progettualità ma più che altro questo suo, ripeto, sogno tra virgolette che era quello di far recitare infatti prima si pensava di far leggere queste poesie ai ragazzi ma poi piano piano, lavorandoci con loro ho pensato che forse sarebbe stata meglio la spontaneità della loro espressione poetica così come io ho cercato di trasmetterla a loro io sono un appassionato di recitazione vero è che mi si conosce poco però provenendo appunto dal canto popolare che mi ha un po' forgiato naturalmente io ho cercato di portare a questi diversabili queste poesie cercando di emozionarli e ho notato in questi mesi che noi ci stiamo confrontando con loro che loro sono interessati effettuano un gioco di antagonismo tra l'uno e l'altro ritengo di aver ottenuto un buon risultato con loro fino a ieri sera, ieri pomeriggio abbiamo provato e sono sempre più che mai interessati e mi chiedono ma quando lo facciamo? il 17 marzo il 17 marzo infatti abbiamo comunicato loro già che si andrà sul palco del cineteatro c'è un biglietto da pagare questo diciamolo chiaramente il biglietto è ingresso libero però ah però ci sarà lo dico perché perché poi insomma alla fine costano le cose l'ingresso è libero però chi vuole chi vuole può anche acquistare il libro del nostro caro amico poeta Salvatore Carpanzano Mischigli semplicemente questo si chiede non si chiede altro però ci sarà anche una chicca la chicca sarà presentata all'inizio perché così ha chiesto l'attore Totò Cascio di essere presente al quale diciamo abbiamo chiesto questa questa sua partecipazione ma c'è un motivo ben valido uno intanto perché è rimasto nei cuori di tutti noi che abbiamo avuto l'opportunità di vedere questo film magnifico di Giuseppe Tornatore nuovo cinema paradiso ma due il secondo motivo è riferito alla sua disabilità perché purtroppo a otto anni ha scoperto di essere affetto di una malattia agli occhi particolare sia lui ma anche il fratello undicenne quindi mi sono diciamo un po' sono andato un po' oltre ho chiesto ho cercato il numero telefonico l'ho contattato lui sentendosi così attenzionato ha dato il suo ok e verrà da Chiusa Sclafani apposta per venire a dare la propria testimonianza di Sabile ma perché? c'è un motivo perché l'ho chiesto per incitare i ragazzi a fare sempre di più perché loro non è vero che sono diversabili sono stati meno fortunati di tanti altri e non per questo devono essere considerati meno fruttuosi nel dare il proprio contributo in società cioè per l'altra perché ha organizzato tutta questa cosa? no perché gli chiedo perché dovete sapere che ora non lo dico chiaramente però insomma siamo tutti insomma intelligenti lo capiamo tutta questa iniziativa è sponsorizzata da chi da Salvatore Crapanzano cioè nel senso che lui dice io ho il piacere facciamo dire il piacere di far fruire non solo del mio estro ma dell'arte della poesia tutti quanti possono fruirne e quindi prendo l'Ariston e lo do gratis ma perché? diciamo che era un mio sogno perché mi piacerebbe che la poesia fosse guardi di là guardi di là dove c'è la delegata la poesia avesse un un ascolto maggiore cioè la poesia non è surrealismo come si vuole far capire anche se ci sono stati ci sono dei grandi poeti come Ungaretti come García Lorca lì andiamo sullo surrealismo che non tutti riescono a capire perché per capire un poeta ermetico ci vuole cultura passione conoscenza biografica simbolismo e giustamente il diciamo il popolo in generale non riesce a soffermarsi e quindi quando si trova un testo di alta cultura impegnato chiude la pagina e dice buonanotte al secco la mia poesia è una poesia più spicciola più facile da capire ma non per questo meno impegnato io poi alla fine mi cimenterò nella lettura di una poesia scritta appunto dal signor Cramanzana vedrete che è semplice da comprendere ma è impegnato pure è mirato è un flash che colpisce specialmente la poesia favolistica favolistica ci sono dei versi che non hanno bisogno di conoscenza biografica che non hanno bisogno di interpretazione sono lì che chiunque sentendo capisce e questo è stato il mio sogno ci provo allora dobbiamo chiudere il nostro tempo è finito abbiamo qualcosa altro da aggiungere potremmo parlare di tanto però per esempio con qualche minutino ancora ce l'abbiamo Alberto che possiamo dire che possiamo dire che per me è stato un continuo mettersi in gioco con questi ragazzi già ho avuto modo di poter collaborare con loro nel 2019 presso fondo a Uteri dove ho portato il pianto della Madonna da me tradotto così come lo sentivo in dialetto l'uchianto della Maronna con loro ho già cantato ho recitato e continuano sempre a essere spronati grazie al presidente della cooperativa Voglia di Vivere Venere in Candela che li spinge e li porta a fare qualsiasi cosa attività anche sportiva ma anche ludica so che sono stati accompagnati presso un laboratorio dell'Opera Pupi e quindi questo vuol dire che questi ragazzi hanno la forza hanno il coraggio se spronati quindi se spronati daranno sicuramente di più e non solo potrà essere anche magari modo di poter occupare un posto di lavoro un domani qualora qualcuno decidesse di poterli utilizzare ridiamo l'appuntamento 17 marzo all'Ari sono alle ore 21 ore 20 e 30 non costa nulla però sono sicuro che quando scolterete quando vedrete assistere allo spettacolo la voglia di leggere le poesie di Salvatore Caramanzano vi verrà quindi ci sarà un banchetto con i libri insomma in vendita e ci vediamo lì se potevo aggiungere un'altra cosa potevo aggiungere un'altra cosa sarà uno uno spettacolo molto variegato dove si canterà la poesia intanto sarà la regina la regina della serata però si canterà la poesia si interpreterà la poesia e e si leggerà anche la poesia perché ci sarà mi permetta la poesia la poesia i miei versi sono arrivati agli occhi e alle orecchie dei musici i quali sentendo la musicalità poetica dei versi hanno messo giù un brano questo brano quindi poesia diventato brano brano arriva all'orecchio della diciamo maestra di danza e diventa e diventa e diventa e diventa anche la collaborazione coreografata diventa una poesia musicale danzata e questo mi ha dato grande respiro grande respiro non sono versi ripeto ungarettiani o di Garzia però mi autorizza mi autorizza a fare insomma proprio scempio di una sua poesia leggendo la no perfettamente mi onora Alberto Noto insomma mi ha accettato un'edizione mi onora perché io ci provo che mi serve pure per invitare ulteriormente le persone a venire a teatro a risonno venerdì 17 smuoviti si intitola va bene ok mi tolgo gli occhiali che avanza come l'acqua che stagna non giubbulisce la mente accussiffa senza pensere se non c'è scopo la vita s'avvelisce lo sangue quaglia in già divine sere un ligno senza succo presto sicca viene tagliato per fare nel fuoco la mente senza idee non si spicca e l'uomo che la tene vale poco un corpo che non si muove è come un morto aggrippa come un bestone senza occhio è nave con l'assamai lo porto di le vecchi si ascuta lo consiglio di fare sempre bene e stare intorto lassare ciauro e mai fare corticchio perciò smuoviti la vita scurri veloce un tannacare perdi solo tempo sbrazzati si mina e porta la cruce grazie Salvatore Crapanzano mischighi ora beh certo semplice la capiamo tutti secondo me pure al nord in siciliano così la capiscono ma c'è una grande filosofia un grande insegnamento la saggezza di uno che con le parole ha saputo leggere sicuramente dentro se stesso e sta cercando di diffondere anche grazie le dico di più questa poesia questa poesia è stata musicata è cantata purtroppo chi canterà non ha la disponibilità per problemi familiari per cui è stata messa da parte ma sarebbe stato un brano cantato dal allora l'onore di averlo dato io ai nostri telespettatori cantato live cantato live volevo aggiungere un'ultima cosa è importante è importante la collaborazione avuta con la scuola di danza di Rosi Guaiana perché ha coreografato ha coreografato alcune alcune canzoni alcune poesie fortemente volute dall'amico Crapanzano e naturalmente è da dare un plauso a lei che giustamente ha messo anche una bella collaborazione che merita davvero la sua esperienza di vedere il teatro Ares pieno di persone curiose appassionate e che hanno anche quella sensibilità che serve per far diventare i sogni in questo caso il sogno di Savatore Crapanzano realtà grazie mi permetta vorrei fare un omaggio alle donne visto che oggi è la festa noi stiamo registrando nella giornata internazionale della donna magari lei lo dirà che oggi abbiamo il piacere di fare questo omaggio alle donne con una mia poesia che reciterà Alberto perché da quando l'ha letto l'ha sposata io non la voglio togliere Alberto reciterà la nuova Beatrice mi deve alzare come vuole no va bene così va bene così primo piano da Alberto la nuova Beatrice descrisse Dante la Beatrice nel cantare donna tanto gentile tanto onesta pare venuta dal cielo in terra a miracolo mostrare tenendo il suo cuore sempre in festa questa donna angelicata ad altri tempi per nulla è oggi tenuta in considerazione perciò vittima di stupri e vari scempi per mano d'uomo che ha perduto la ragione è ora di cambiare cultura e atteggiamento non può l'uomo commettere sì tante sceleratezze si rifaccia a qualche fu di Dante l'insegnamento e ritorni la donna ad essere angelo contenuto di ricchezze grazie dottore grazie veramente grazie grazie mi auguro mi auguro questo è il mio sogno che si realizza però desidererei far passare un paio d'ore un paio d'ore nella completa astrazione lontano dai vizi sociali che fuori la sala si consumeranno ci riuscirò mi auguro di sì mi auguro di sì tutta la buona volontà ringrazio tutta l'equipe che mi sta collaborando perché mi schiglie è un insieme di operatori che hanno accolto il mio pensiero e di conseguenza cerchiamo di portarla avanti arriverà il 17 mi auguro esattamente grazie in questo caso per la seconda parte bellissima poetica molto bella e anche spero di aver dato la giusta Alberto Noto grazie a te lo rivedremo appunto il 17 marzo in teatro grazie a Salvatore Crapanzano secondo me qualche altra volta me lo porto in studio voi che ne hai pensato con piacere questa è stata res publica Sicilia e Europa arrivederci